Salve a tutti Blazers e bentornati nelle Bedwars Che strano dirlo ma siamo tornati anche questa settimana E sono in compagnia di tre personaggi che non conoscerete mai Perché Dark Bubble nasconde l'identità di Tech Yes Mamma mia, ha detto anche Dark Bublé nel periodo di Natale Poi abbiamo quello che sembra un Tech On steroidi Sì, tipo su Onacidi avrei detto Un po' steampunk che in realtà è Emi Allora E poi c'è questo Meccano007 Lui si chiama proprio così, non lo conoscete perché non se lo fila nessuno su YouTube Ma è uno YouTuber L'unico modo per fare il disguise è mettersi le teste così Allora ragazzi, se volete anche settimana prossima in Bedwars Dovete lasciare un like come la volta scorsa Perché se no non le porto, non me ne frega niente 10.000 like perché l'altra volta abbiamo fatto 11 Quindi almeno 10.000 like Per le Bedwars E so che ci tenete, quindi fatelo, mi raccomando Anche noi ci teniamo a farle Ragazzi, sta per cominciare questa mappa Credo di non averla mai vista No, non credo E siamo tutti insieme? Sì Sì, tu chi sei? Sì, sembriamo tutti insieme Ok ragazzi Bravo Tano Grazie di averlo detto Visto che non ti conosce nessuno Allora Io ti scavo sotto il ponte Guarda, mettiti a bardare piuttosto che io devo andare a prendere i diamanti Tano aspetta a fare le bardamenti che oggi mettiamo a posto Ah giusto, giusto Qualcuno va nell'isola opposta del diamante a prendere la roba? Mi fate questo cortese piacere, grazie Grazie mille Allora In realtà non mi bastano i blocchi qua Quindi torno indietro E ragazzi Mi raccomando Se possibile Andiamo subito a fare i sederi alla gente Io ho una TNT Com'è già una TNT? Ma raga, ma dovevo giocare per i vigili Ma scusate Sì, ma l'avrei voluto fare io Ma perché? Perché voi Guardate tutto Fate cose Non mi aspettate Aspetta, aspetta Aspetta Ok, aspetta Secondo me la TNT Raga, ponte metodo d'Andromeda Forza Ma che metodo d'Andromeda Per morire Della costellazione di Andromeda Ma sei ancora lì tu? No, dove sei? Sei lì, ok Io già sono qua Ok, ok, ok Vabbè, se vuoi andiamo dagli azzurri Vai, vai, vai Let's go, let's go, let's go Per me ci sta tutta Ma volendo anche dai gialli Facciamo la tattica super aggressiva, ragazzi Certo, ma ovvio Ma raga, si gioca per vincere Allora Gioca una volta sola Da quante abbiamo startato? Un minuto? No, di più Eh, però quelli stiamo facendo l'Handstone Che è che ha sparato? Vai un po' più alla tua destra Tranqui Raga, ci ha sparato roba qua Ci ha sparato che cosa? Vabbè, lascia stare Lascia stare Quindi tu hai la TNT? Sì Mettila nell'angolino Girati e mettila, vai Mettila nell'angolino Ok, bravo Bravo, Eme Bravo, Eme Distruggi, distruggi Yes! Mamma mia Mamma mia È record È record, ragazzi È record Attenzione Abbiamo già distrutto un letto Ok Tac Subito Raga, ma qua si gioca per vincere Hai ragione Adesso però Loro saranno incazzati Quindi ovviamente Stanno E' anche stanchi Ma ci possono provare lo stesso Ci vado io contro Ecco però che ci fanno Ci fanno sciopare cose Nessuno ci lancia niente Penso che sia un effetto di questa partita È un effetto della partita? Sì Ho visto anche gli altri Esplodere vicino al letto C'è qualcosa di esplosivo qua Comunque siamo troppo fuori Ah ok E hai voluto per aiutarti Fare qualcosa No, no Torniamo indietro Perché siamo in tre fuori E c'è Forsettano in base Quindi è pericolosissimo Meno uno Bravo ma dove sei andato? Più che è blu Tutti gli amici Proprio subito Allora Se sei tornato tu in base Tech Io vado da Eme Va bene vai 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 Arrivo Eme Ok ho fatto fuori l'altro Conquistate le prime degli altri Ok sono anche morto io C'è un giallo C'è un giallo qua Intanto Eme Mi prendo qualcosa Il giallo cosa vuole da me Aspetta Cerco di mettere via Le loro risorse Che sono tantissime Ma non ci attaccherà mai nessuno Siamo troppo forti raga Ecco il giallo Mi sta a girare Perché mi aggira questo? Cosa vuole? Vieni qua Lasciami un goldino Eh ti l'ho messo in tre cesto Ma io non lo so ragazzi Io non lo so Cioè mi giro un attimo Mi tira un colpettino Io non riesco a colpirlo E mi butta di sotto Poi mi scrivono Che schifo Tua nonna è scarsa Beh probabilmente Sì Sicuramente sulle bedwars Non è Allora Eren vieni dai gialli Dai gialli Eren Basta Ok arrivo Proprio Dobbiamo fare come la SWAT Quando SWAT gli streamer Oh c'è un giallo Che viene da me Eh ma sì È abbastanza innoco quello Ma scusa Non c'è neanche un ponte Aspetta io vado a farmi Le TNT Tu pontifica Già ce l'ho la TNT Già ce l'ho la TNT Me ne faccio un'altra Però cerca di fare una scala Perché sennò Devo pillarare pure io Va bene Ok È sempre di scale Allora ragazzi No comunque Salutiamo Ma che è che mi ruba Tutto l'oro? Tutto l'oro? Questo è Emerald No è Emerald Che si fa le TNT Mi ruba l'oro Oh Sono morto Ecco Mi hanno lasciato una Fireball Ecco Visto Hai rubare l'oro Ok Ora ho io una TNT Facciamo anche Una cosa un po' saggia Per il piccone Magari Se vuoi vengo io A aiutarti Però volevo la spada di ferro Ok Ok Va bene La spada di ferro Oh raga Con calma Con calma Dobbiamo prendere i diamanti Per potenziarci Assolutamente Ok Tutto questo Tano che stai fatto? Ma Tano è un oggetto misterioso Tano Tano sei proprio una palla al piede Raga Prendi i diamanti Per potenziare Bravo Tano Ma poi chi è? Ma ragazzi Chi lo conosce sto qua? Ma i gialli sono già Ok vediamo Che erano parole Bravo Tano I gialli Bisogna andare dai gialli Sì adesso andiamo dai gialli Allora se siete pronti ci andiamo Ho preso giusto due diamanti Raga ma avete potenziato qualcosa dei diamanti? Sì 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 Comunque in merito Però altri Ce ne sono tre qua In merito a quello che stavo dicendo prima Ragazzi Salutiamo con affetto tutte le nonne E rispettate le nonne Che sono le custodi Della memoria della famiglia Della miseria Ma se io faccio così no? Prendo il diamante Viva la nonna E lo metto qua Non posso Gli va la nonna E chi la castiga No povera nonna Che poi l'immagine è abbastanza strana E raccapricciante Già Allora Tu sai Eme Sì ok Scusa non ti riconosco per il disguise Vai pure avanti Mi copri un po' Allora lì abbiamo un problema Perché hanno guardato Fireball ok Sì Sto guardando Allora Si è accorto Si è accorto Si sta tornando indietro Va a prendere una fireball sicuro No no tu vai 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 Non può fare niente ora Allora Dovrei far esplodere lo strato fuori Gli attaccano i verdi tra l'altro Vai 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 Tu vai tu vai Mettili la TNT Bravo Cerca di distrarli Oh Hai scoperchiato Hai scoperchiato Bravissimo Bravo bravo Gli metto un'altra TNT qua Vediamo se esplode Ma l'ho distrutto il letto Sì sì l'hai distrutto L'hai distrutto Però la TNT esploda senza vittime purtroppo Eh lo so Ok Voi vengo a fare un po' di vittime No no Allora raga Un attimino Se mi date delle risorse Che mi potenzio Eh guarda Non sarebbe male Tutto prototipo di diamanti io anche Oh verde da noi Verde da noi L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Tano matalo Bravo Tano Bravo Tano Perfetto Tano ma stiamo assieme al centro Ma raga ma sono Raga scusate Scusate C'è un giallo E tre verde Ma un verde appena è ritornato Cioè Ma stanno quittando questi No no E perché quando muori non sei in tab Ah ok Perfetto Temevo il rage quit di già Ok ok Oh Wow È esploso C'è un giallo al nostro diamante Al nostro diamante Ok C'è tempo C'è un attimino di tempo Bisogna di farmi blocchi Non so se andare l'aro per lì le scatole Vabbè certo Io ragazzi vi dico che non sono in base Sì Guardalo Potreste andare Ma c'è una fireball Ha preso e l'ha buttato giù Prendo questa qui Questa via Ok I gialli raspano Raga vado dal giallo Il giallo raspa Dove sta il giallo Aspetta Nella sua base Lo sto andando a Ok vado anch'io Chi c'è in base da noi? Eh Lo devo purgare adesso Con il giallo lì No 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 Mi serve che restate in base Ragazzi Sto andando io Andatelo a purgare per favore Eh però copritelo a base Aspettami Aspettami un attimo Mi dispiace ma Ormai è morto Ah no invece mi sta Aspettami un attimo Mi ha distrutto Ecco ti sta bene Così mi pare a non aspettare Vedi Ma lui è Dark Lord 3917 Sì raga Eh Eh madonna Raga ma mi colpisce Ma io C'è sempre i sticcavoli Di cosi di ping Poi sembrano scuse Mi colpisce da 3 km Non riscoltarlo Eh perché è Dark Lord 3917 Eh Ok che è Dark Lord Me ne frega un cavolo Che è Dark Lord Poi anche smetterla di dire Che ne so io raga Ma che cavolo Allora Senti fammi potenziare un attimo qua Ok Eme se ci sei Andiamo in due Insieme Vai Ok stai andando Sì Tano dov'è Tano Sto tornando in base Ha messato una fireball Ne ha messato un'altra Tano torna in base Sì 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 Per diamine ti prego Ma non c'è niente con i diamanti Sto attaccando verde Sì sì lo so Sto attaccando verde Lo vedete Anche da sinistra Sì sì stiamo un attimo qua Ah qua davanti Eh Ren Servono blocchi per te Di sotto mezzo il ponte Vado a prenderlo io il verde Guarda Ponte quale ponte Per il giallo Sto scappando come un coniglio Eh ma ci stanno attaccando i verdi Aspetta un attimo Ora spawnano smeraldi in base Bravo Ok il verde è scappato raga Va bene Ma senti Dove sei tu Dal giallo Dal giallo Ok vado verso il centro E arrivo Oh calmo giallo E qua dove Arrivo Tano Arrivo Tano Da qua Oh c'è Raga in base In base sto spaccando Ci spacca Ci spacca Mi sono messo Sto scappando il verde frontalmente raga Sì 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 Il verde arriva Venite Ma scappa questo Va avanti e indietro guarda Sì Eh perché ci vuole buttare di sotto Il giallo sta facendo stupidate là Ok Ce l'hanno tutti con noi ragazzi Praticamente Il giallo è incazzatissimo Raga bisogna mettere di nuovo il vetro qua Allora senti Io vorrei farmi No Tano mi dai l'arco un attimo Per piacere Tieni Tutto tuo Ma scappa il verde Non capisco Ok che volevo giusto farlo Non incorrò io Eh ok però ci servono Un attimino Che lo buttavamo di sotto Ok È libero il centro Sì Ok andiamo al centro Dove avevano spaccato Anzi Stay to aim Arrivo anch'io E state in base Abbiamo quattro smeraldi Vedetela voi Ok Nio sei nio sei raga O sei smeraldi Boh Perché qua ne spawnano un botto Io ne ho uno solo Allora c'è un verde Nella base Dei blu Ragazzi Sta andando nel ponte Per attaccarci Provo a hittarlo Mamma mia ragazzi Non ho perso il tocco Una freccia E va giù Una freccia Mamma mia Ok E me dove sei tu È in base di nome nostra Che mi sono fatto l'armor Ok io sto in centro E sto guardando La gente Che fa In centro del duomo Sì esattamente Potremmo Stavo vedendo i pokemon Per i ride La strada È inutile che la teniamo così Secondo me Non so dove sia il giallo E quello è il fatto In base sua In base sua Sto attaccando in verde Er ne sto arrivando Shit Aspetta Ok vieni a farmi assistenza Sto attaccando il giallo Sto attaccando il giallo Ok vieni a farmi assistenza Che mi sta killando il verde Ah ma aspetta Tu sei al centro Non sei questo qui Eh sì te l'ho detto zio Ah cacchio E ma chi era quello qua con me Che non sei andato via Ok Che ha tirato Il fireball Vai Tano vai Tano Chi è che è Ah sei la solita sparata Scusa Ok vabbè Sono un attimo scappato Perché volevo salvaguardare Lo smeraldo Però è uno solo in realtà Potevo anche fare Ne abbiamo cinque in base Di smeraldi Eh sì Ne ho messo uno Nell'ender chest In realtà Non era tutta sta roba Non so se hai condiviso No non lo vedo Ma non è condiviso 4 TNT Distruggi tutto Il problema raga Dov'è il giallo Il giallo guarda Il giallo è al centro Il giallo è al centro Sarebbe bello Se ci attaccasse No Ok c'è un verde Che lo attacca È uno di due Muore tanto Vado Vado Ah ho acceso il verde Ho acceso il verde Io sto provando Ad andare verso i verdi Invece Raga sono andato al centro Dal giallo Guarda che lui È diamantato È fortissimo Anch'io sono diamantato Oddio 8 diamanti qua Allora raga Vorrei infiltrarmi un attimino Nella base verde Ma mi porto indietro i diamanti No Raga Ha un cuore e mezzo Davvero? Eh sì E se vuoi vado io a vedere È possibile Vai 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 Attacca 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 Ok ho visto È impossibile prenderlo da qua Aspetta Ci sta andando un verde al centro Comunque C'è andato un verde Perché non carica Raga non carica l'arco No non è possibile Non c'ha i colpi Non li ho presi Ma non mi li ha troppati Mentre voi continuate a fare le cose Io provo ad attaccare un attimo i verdi Direttamente Ma chi è che sta scappando Non mi ha lasciato solo col verde No no Lascia stare Sei al centro? Sì Erano qua le freglie Allora Eme Tu cerca di distrarli Tranquillo Tranquillo adesso Allora c'è il verde qua Provate a distraerteli al centro Eh raga ma ieri ero al centro Uno di noi è scappato Cioè Non so chi fosse Boh Si dichiari Non lo so Ah raga O siete in tre con Disguise Eh Io ero nell'altra base Quindi era te che il furberto Ero io Ero io Ma sono tornato indietro Perché se non avevo nelle armi Non avevo un cavolo Cosa faccio lì A uccidere chi? No E mi ha buttato giù Vabbè Vabbè è nato giù il verde comunque Sì però Raga sono vicino alla base verde Io ci provo È dura ma ci provo Tano Vuoi venire con me al centro A fare pvp contro il giallo? No Io proteggo la base con l'arco Vengo io Vengo io Vengo io Vengo io Ah mi uccido No raga Ho scoperchiato il letto E mi hanno ucciso L'avevo scoperchiato Raga bisogna andare in due per forza Eh sì per forza Nella cesta ci sono un po' di materiali Se volete Ok sì Io ho portato anche indietro i diamanti Io sono uovo di potenziare qualcosa Aspetta aspetta Devo fare Ma qua non abbiamo Ma raga non avevamo ancora la corazza Ma scusa Eh no Tutto potenziamento sul Come si chiama? Tec Andiamo? Sì Allora Allora Se sei riuscita a stare in vita un attimo Vai la ho buttato giù La ho buttato giù Se sei riuscita a stare in vita un attimo Facciamo una tattichetta Ok Allora Tano tu sei in base nostra Si hai lasciato la TNP qua per terra No Tattichetta 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 Che ci ho messo tutte le cose Sì 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 Aspetta Sto arrivando Sto arrivando al giallo Sto arrivando al giallo Uh ma ha lasciato la cosa Ce la fate? Quanto gli manca? No non è andato Mi sa che gli ho lasciato pochissimo al giallo Eh zi No no Beh Raga Non ci puoi fare niente Si è preso Lo stavo per killare Si è preso la mela d'oro Usiamole anche noi le mela d'oro Ma andiamo tutti insieme No no Allora raga Dobbiamo riorganizzarci un attimo Non serve a niente quello che state facendo Siamo qua siamo qua State un attimo calmi Allora Lui si prende le mele d'oro Per curarsi Quindi cioè Guadagniamo a più di quello che li Toglievo Ok E il verde in arrivo ragazzi Siamo qua in 4 Non può fare nulla tranquillo Siamo qua in 4 Bisogna di potenziarmi assolutamente Qua non c'ho niente Ok Allora questa Questo è largo Sì sì Smeraldi Raga vi siete inconti Di smeraldi No Li lasciati tutti dentro nella cesta Eh non ci sono più Ma raga ma siete tutti diamanti Meno che me Ma scusa Ma cioè Che team siete Che non mi lasciate niente Eh Ma io voglio Le protezioni Non posso crepare Sempre Non posso crepare Perché non mi lasciate materiali Dai per piacere Ma io non ho Non ho tonto niente Non so chi li ha Staggiate di materiali Beh voi Raspate gli smeraldi Le cose Ve li prendete per voi Io però starei Starei anche registrando Ragazzi Dovete un po' sostenermi Il giallo Il giallo al centro Dai 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 Easy Guarda Guarda Allora Così Tre smeraldi E io ne ho sette Vieni per fare l'armatura Ok Se me li porti Di altri sei di smeraldi Vedi tu Qua Te li metto dentro la cesta Oh 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 ragazzi Mamma mia Ok Ok Allora Ragazzi attacca da sinistra Ok Allora ragazzi Mi faccio un attimo l'armatura Perfetto Possiamo farci un enderpearl Mi stavo chiedendo Attacca uno davanti da sinistra ragazzi Sì l'ho visto Ci possiamo fare un enderpearl Stava lasciando Me la metto qua Dov'è che sono? Ti ho avuto aiuto Da sinistra e da davanti Sono più sinistri Io non ho neanche l'arco Perché lasciando tutto gli altri Non ho un cavolo io C'ho l'arco La cosa di legno C'ho la spada di legno io Vedi tu Direte tirarlo giù voi Preso Ok Perfetto E quello al centro si è nascosto Vabbè easy Vabbè è tornato indietro Beh raga o andiamo tutti Ma no È uno spreco di frecce così Sì 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 È scappato Ma raga facciamo il giro Possiamo fare tutto il giro No Ok raga Uno con me E gli altri due in base Arrivo arrivo Sky Vieni vieni Tech on acid Andiamo Andiamo Tech on acid Hashtag Tech on acid Da che parte Tano? Ce la fate? Sto spaccando Sto spaccando Andato Andato Ok Andiamo 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 Sto spaccando Verde da noi Da che parte? Dal centro Io l'ho visto Attento Sono così morto io No L'ho orcato È caduto ma È tornato indietro Eh questi sono super potenziati ragazzi È lì nascosto comunque il verde Porca troia Ok Devo provare da solo a sto punto No no sto arrivando Sto arrivando Ho tre cuori Eh ma questi tornano Frate ti porto anche le mele d'oro Tranqui Per mele d'oro Bravo Le mele d'oro Quanto costano le mele d'oro? Tre Le d'oro Le d'oro Le d'oro Mi faccio due al volo Frate vieni frate Arrivo Come dove sono? Dove sono le fottute mele però Non ho frecce Io sono ancora dei blues Allora Eren Io ti tankerò tantissimo Ok Dobbiamo Vabbè ti stieniti e spacchi Sì Dobbiamo lasciare il ponte Consider che Ah già c'è la mele d'oro Ce l'ho Ne ho mangiato una Ok Vai Vai sul ponte Vai Perde rinunciato Per il ora Eh sta arrivando un altro verde Sono senza blocchi però Come se senza blocchi Purtroppo sì Vazio Questo non va bene Mi sono fatto un arco anche io Almeno aiuto Ok Però Vai 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 c'è tutta la scalettina Guarda Piani Ok Piano piano Quanto qua difendiamo Salve la madre di miseria 36 Lasciane lì un po' Nella cesta va Grazie Quanto la scala vai Grazie Tutte 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 Una No una Non c'è nessuno Non c'è nessuno in base Loro spacca spacca Vai 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 Aspetta 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 Ok È libero È libero È libero È arrivato a destra Sì Ha spavato Sì sì Dove è Si è disconnesso Oddio Si è disconnesso Raga si è disconnesso Per non farsi uccidere Ok Che roba Ragazzi siamo in difficoltà No 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 Raga raga Pestate Pestate Stiamo esplodendo Tranquilli Noi siamo vivi Noi siamo vivi Abbiamo vinto GG Come avete fatto Che è successo Non lo so Secondo me sono morti Vabbè Comunque Un wall Lo avevamo appena Fatto acquittare Quindi Vabbè Abbiamo vinto GG Ragazzi 10.000 like La prossima Ciao bella Ciao Ciao